Ciao, benvenuti in questo video. Questo che stai vedendo è un Iveco Stralix modello XP, dove ho appena terminato l'installazione del CV del nostro carissimo amico Franco. Eccolo qua, felice del lavoro eseguito. Vediamo un attimino assieme quello che ho fatto sull'Iveco Stralix XP. La prima cosa che è stata eseguita è quella di installare la staffa by trackpoint in acciaio inox, dove viene fissata alle sue viti già originali, ossia di predisposizione. Dopodiché è stata installata l'antenna, l'antenna trackpoint modello power, si caratterizza e si distingue rispetto ad altre antenne per il fatto che è già pre-tarata. Cosa significa? È una caratteristica molto vantaggiosa, nel quale momento volessi installarla col fai-da-te. Ossia, la installi e l'antenna è già funzionante, senza necessità di taratura. Qui ho installato il CB di Franco, l'Alan 68. Lo andiamo un attimino ad accendere nel suo apposito alloggiamento con altoparlante esterno per migliorare la qualità dell'acqua. Ti ricordo che per fare questo lavoro il tempo di esecuzione è esattamente di un'ora. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare. Contattami ai numeri qua in sovraimpressione, allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595. Sarà un piacere insieme trovare il tempo e la soluzione per il tuo camion. Grazie per essere restato con me in questo video, ci vediamo al prossimo!